L'Edison annuncia il ricorso, stavolta in Cassazione, contro la sentenza del Consiglio di Stato che la ritiene responsabile dell'inquinamento e la condanna a pagare la bonifica delle discariche 2A e 2B. A inizio marzo il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza di un anno prima emanata dal TAR, a cui Edison aveva fatto ricorso dopo che la provincia di Pescara aveva individuato la multinazionale quale responsabile della più grande discarica di rifiuti tossici in Europa. E ora testardamente l'Edison si rivolge alla Cassazione, nella speranza di ribaltare la sentenza. Esistono motivi di annullamento riguardo la giurisdizione, fanno sapere gli avvocati della società per azioni. Intanto la regione Abruzzo ha chiesto formalmente al Ministero dell'Ambiente la restituzione del milione e mezzo di euro versato per la gara dei lavori di bonifica, dopo la decisione da Roma di annullarla. La gara era stata vinta nel 2018 dalla belga Dekdeme, ma qualche giorno fa il Ministero ha deciso di annullare tutto, parallelamente ai procedimenti giudiziari. Così la bonifica si è trovata a punto e a capo, mentre Edison, che deve pagare i lavori, dovrebbe presentare un nuovo progetto che soddisfi requisiti ambientali. Questo potrebbe far perdere ulteriori anni, mentre ne sono trascorsi già 13 dalla scoperta delle discariche. E se a questo si aggiunge l'intenzione di Edison a non arrendersi e a continuare la battaglia per vie legali, allora la bonifica appare più lontana, quasi a perdersi oltre l'orizzonte. Nel frattempo però le tonnellate di rifiuti chimici, protetti solo da un telo sfaldato in più punti, continuano a contaminare la falda acquifera del fiume Tirino.